Ciao a tutti, oggi siamo al 28esimo video perché per chi non lo sapesse vi ho promesso di registrare un video al giorno per 30 giorni e oggi video breve ma secondo me potrebbe essere molto interessante per alcuni di voi che non conoscono questa funzionalità qua tra l'altro fatemi sapere se un video del genere può interessarvi trimestralmente magari lasciando un like o un commento in cui mi dite appunto che siete interessati secondo me è molto carino come video perché è breve ma vi do anche un aggiornamento sulle nuove posizioni che stanno aprendo o vendendo i più grandi top investor in pratica esiste un sito che si chiama data roma che sostanzialmente vi permette di andare a vedere cosa stanno facendo i top investor nell'ultimo trimestre se voi scrollate e andate giù c'è questa sezione qua che vi dice quali sono stati i top 10 acquisti nell'ultimo trimestre da parte appunto di top investor se noi ci clicchiamo sopra ci apre la lista completa e poi voi avete la possibilità di selezionare magari gli ultimi 6 mesi sia in acquisto sia in vendita io principalmente lo faccio per eventualmente vedere come si stanno muovendo appunto i top investor quali settori stanno vendendo quali settori stanno comprando ad esempio mi ricordo che probabilmente inizio metà 2021 ho visto che tanti top investor si stavano muovendo andando a comprare aziende del settore farmaceutico io sono andato ad analizzare alcune di quelle aziende che stavano comprando ho fatto i miei acquisti e mi stanno portando degli ottimi ottimi guadagni considerate che ad esempio Merck, Pfizer, Ebby e altre aziende farmaceutiche le ho comprate anche seguendo ed analizzando le aziende che avevano comprato loro e appunto come vi dicevo prima sto guardando veramente molto molto bene e questo lo faccio principalmente per scoprire nuove aziende che non conosco infatti qua possiamo vedere che nei top acquisti c'è Meta come primo posto dove è stata acquistata da 7 top investor nell'ultimo trimestre Amazon anche molto acquistata, Microsoft che tra l'altro Microsoft e Meta sono due aziende che vi consigliavo negli ultimi video e poi ho due aziende che non conosco personalmente infatti Generac, Holdings e CarMax sono due aziende che non ho mai sentito e quindi andiamo a vedere un attimo sfruttando il mio algoritmo quale potrebbe essere una valutazione corretta considerate che le due valutazioni che andremo a vedere sono puramente matematiche senza vedere il modello di business, senza vedere nient'altro semplicemente usando il mio algoritmo giusto per dare un'occhiata per capire se potenzialmente potrebbe essere interessante o no c'è anche da considerare che se noi andiamo a sommare gli acquisti in Google col ticker GOOGL e quello col ticker GOOG probabilmente sarebbe l'azienda più acquistata infatti se voi fate 4 più 5 fa 9 sarebbe l'azienda più acquistata in assoluto nell'ultimo trimestre comunque per curiosità sono andato a sfruttare ChatGPT che per chi non lo sapesse è un'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI che è un'azienda nel quale Mike ha deciso di investire all'incirca 10 miliardi nei prossimi anni e quindi ci fa un breve risulto su cosa fanno entrambe le aziende io semplicemente ho chiesto cosa fa CarMax e poi ho chiesto mentre Generac cosa fa allora parlando di CarMax ci ha semplicemente detto che è una compagnia americana che si occupa di vendita di automobili usate offre ai clienti un'esperienza di acquisto di auto usate semplice e trasparente e poi ho visto anche che fornisce servizi finanziari di riparazione auto ai propri clienti perché utilizzo ChatGPT in questi casi qua? perché mi dà una risposta molto semplice a un quesito che è altrettanto semplice attualmente non mi interessa sapere cosa fa di preciso CarMax semplicemente perché non l'ho ancora analizzata e quindi se il mio algoritmo mi dice che non è per nulla interessante mi basta sapere questo se invece voglio approfondire ovviamente mi baso su questo poi faccio l'analisi tramite il mio algoritmo se il rating magari è da 5,5 in su le potenzialità di crescita sono elevate allora mi vado ad analizzare bene l'azienda se no semplicemente per me non ha senso sprecare altro tempo e poi ho chiesto mentre Generac Holdings cosa fa? e qua sostanzialmente ci dice che è una delle principali aziende produttrici di gruppi elettrogeni negli Stati Uniti e offre una vasta gamma di prodotti dai piccoli gruppi elettrogeni portatili a quelli utilizzati per alimentare interi edifici durante un'interruzione di corrente sono andato a vedere e mi sembra producano batterie portatili e gruppi di continuità infatti se voi cercate Generac Holdings e andate sul loro sito mi sembra producano quello poi non è che so di preciso esattamente cosa sono però nel caso se il nostro algoritmo ci dice che è interessante andiamo ad analizzarla meglio comunque mi sembra che siano generatori di corrente, gruppi di continuità e cose del genere vendono anche prodotti per la ricarica rapida delle macchine in generale abbiamo già una piccola idea ora semplicemente visto che ci andate a vedere quali aziende stanno acquistando principalmente andiamo tutte a metterle dentro del mio algoritmo e andiamo a valutarle molto brevemente considerate che Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta sono tutte aziende che ho in portafoglio quindi ovviamente le conosco molto meglio mentre Generac Holdings e CarMax sono le ultime che andiamo a vedere però ho già dato un'occhiata e non mi sembrano iper interessanti semplicemente perché hanno dei bilanci che non mi piacciono per niente come potete vedere Meta è un'azienda che a mio avviso attualmente si trova ad un buon prezzo infatti ha dei buoni ritmi di crescita e dei buoni multipli infatti il possibile gain che si può fare da qua a 3 anni è all'incirca del 56% secondo i miei calcoli il rating finale è da 1 a 10 di 7,74 quindi Meta secondo me è un buon buy a questi prezzi per quanto riguarda Amazon anche qua le possibilità di gain sono abbastanza elevate perché secondo i miei calcoli si potrebbe guadagnare all'incirca un 60% da qua a 3 anni l'unica cosa che non mi piace assolutamente di Amazon è come il conto economico abbia attualmente dei margini che non hanno senso e questo l'ha portata ad avere anche un nostro patrimoniale che a mio avviso non è bello sicuramente come quello di altre aziende competitor come Google e Microsoft perché sia 58 miliardi di cash e cash equivalent ha praticamente debiti a breve di 0 quindi la situazione per quanto riguarda il cash su investimenti a breve è a posto però ha debiti per 130 miliardi a lungo termine e attualmente Amazon che ha un free cash flow negativo non mi porta a sceglierla come prima azienda in cui investire nel breve periodo voglio vedere un po' di trimestri più positivi e poi deciderò se incrementare la mia posizione che attualmente è già abbastanza grande ma vediamo più nello specifico nei prossimi trimestri per quanto riguarda Microsoft e Google la situazione come vi ho già spiegato in altri video è buona sicuramente Microsoft che è salita di più nel periodo più recente non mi permette di avere un magico di sicurezza abbastanza elevato per investirci ancora ho già una posizione bella grande però sono entrambe aziende che secondo me sono veramente top da avere in portafoglio infatti considerate che hanno entrambe rating sopra il 7,5 Microsoft 7,38 e Google 8,21 e su Google si possono fare anche dei buoni guadagni per quanto riguarda invece CarMax e Generac la situazione lo guardate non mi piace assolutamente hanno rating bassissimi da 1 a 10 infatti considerate che CarMax ha un rating di 3,85 e questo principalmente dovuto al fatto che sia indebitata in modo assolutamente eccessivo infatti ha praticamente 700 milioni in cash contro debiti totali all'incirca di 18-19 miliardi che è una situazione a mio avviso abbastanza ingestibile considerando anche che il free cash flow attuale di CarMax è di soli 800 milioni quindi è una situazione che attualmente non mi lascia per nulla tranquillo quindi me la metto in watch list per vedere cosa farà nei prossimi trimestri per monitorarla in generale però non mi piace assolutamente considerando anche poi che ha un PE non basso infatti ha un PE di 20, un free cash flow di 15 però è una azienda che non cresce a ritmi elevatissimi quindi la monitor mi guarda un po' nei prossimi trimestri come si evolve lo sto patrimoniale del conto economico e magari vi aggiungerò nei prossimi video per quanto riguarda Generac Holdings la situazione non cambia tantissimo infatti il rating è comunque di 4,92 quindi pienamente insufficiente e anche qua la situazione è leggermente migliore però comunque non è delle più rose infatti ha cash per 200 milioni contro debiti totali di un miliardo e mezzo poi non ha margini che mi piacciono perché ha un net margin solo del 9% un gross margin del 33% che non mi fanno impazzire e anche qua i multipli non sono spettacolari in relazione anche al tipo di crescita che ha perché ha un PE di 17% contro una crescita stimata dell'8% all'anno e questo ci porta potenzialmente a guadagnare da qua 3 anni all'incirca solo un 20-25% quindi anche questa qua la monitoro per vedere come si evolve ma attualmente non penso di volerla approfondire detto questo di ultima occhiata andiamo a vedere quali sono le aziende che hanno venduto nell'ultimo trimestre giusto per capire che settori stanno vendendo come possiamo vedere le più vendute sono Charles Schwab che per chi non la conoscesse è una azienda finanziaria Microsoft e Google mi stupisco però ci può stare Goldman Sachs anche qua settore finanziario una delle più vendute Visa anche abbastanza venduta United Health che semplicemente è una azienda di assistenza sanitaria privata americana Analog Devices non la conosco chiediamo un attimo a chat GPT cosa fanno vediamo un po' cosa ci risponde ma ci dice una società di tecnologia che progetta e produce componenti e soluzioni elettronica analogica questi componenti e soluzioni sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni tra cui sistemi di automazione industriale, telecomunicazioni, sistemi di imaging medico, sistemi audio e video sistemi militari e aerospaziali, automobili e molto altri ne ho giusto per vedere qualche immagine sì comunque componenti elettronici niente era solo una mia curiosità e poi qua di nuovo Alphabet un'altra banca Wells Fargo JP Morgan banca di investimento ExxonMobil ci sta che la vendano e niente altre aziende molto interessanti fatemi sapere se questi tipi di video qua vi possono interessare una volta ogni trimestre quindi una volta ogni 3-4 mesi e niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like e un commento e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti